Grazie a tutti. La dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti. La sola dichiarazione dei redditi non ha carattere confessorio ma rappresenta solo un momento del procedimento di accertamento e riscossione delle imposte sul reddito. Come tale non costituisce la fonte dell'obbligazione tributaria. Grazie a tutti. Grazie a tutti.